Il nostro atteggiamento all'inizio della settimana sante di coloro che desiderano conoscere Gesù è un cuore vivo quello che si accosta alla memoria degli ultimi giorni di vita di Cristo, un cuore che nella Domenica delle Palme incontra il Signore e si prepara a ripercorrerne la passione. Il Vescovo Giampio presiede il rito sul prono della cattedrale domenica mattina alle 9.45, seguirà la messa, consolidato il calendario delle celebrazioni nei giorni successivi. Mercoledì alle 17 la messa crismale presieduta dal Vescovo e concelebrata dal presbiterio diocesano, giovedì alle 18 la messa in cena domini, cui seguirà un tempo di preghiera silenziosa all'altare della Reposizione e dalle 21 l'adorazione eucaristica comunitaria guidata, venerdì alle 18 la celebrazione in passione domini. Dopo la grande messa crismale che raccoglie il presbiterio insieme con il suo Vescovo e guardando a Gesù, sacerdote e servo di ciascuno di noi, ci chiede un po' di rinnovare quel cuore che si è dedicato al Signore con questo spirito, nei giorni successivi noi abbiamo alcuni segni che la liturgia ci indica, il segno dell'altare della Reposizione, per dire che in questi giorni il Signore non è più dove lo abbiamo di solito ma in un luogo o altro, quindi la nostra attenzione anche spaziale viene spostata, così come le nostre chiese che vengono spogliate di ogni cosa, proprio per farci aumentare l'attesa desiderosa della Pasqua dove il Signore torna da risorto. Anche noi siamo chiamati a rivestirci a festa, a riconoscere il Signore presso l'altare, presso la custodia eucaristica, a ridare valore ai fiori, alle luci, al suono delle campane, alla luce, alla gioia pasquale che avviene autentica soltanto dopo un periodo, potremmo dire così, di digiuno. Venerdì alle 21 la via Crucis cittadina di Chiavari che parte dal mare si snoderà per un pezzo di passeggiata fino a piazza Caduti di Nassiria. Vuole essere un percorso che dalla croce apra uno squarcio di speranza, ci siamo chiesti dove potevamo concludere per dire il futuro, il desiderio che la croce diventi con la risurrezione un elemento di sogno anche per una chiesa che si rinnova sempre, abbiamo detto finiamo a scuola dove ci sono i sogni, i desideri, le attese, anche a volte le angosce, le ansie dei nostri ragazzi.